Si tira un sospiro di sollievo alla casa di riposo Vittorio Fossombroni, conosciuta dagli aretini come Casa Pia. I tamponi effettuati domenica 25 ottobre ai 76 residenti e martedì 27 ottobre ai 58 operatori hanno infatti dato tutti esito negativo, confermando dunque l'assenza del contagio da Covid-19 all'interno della struttura cittadina. Questo ciclo di controlli era stato previsto con urgenza dalla ASLA Toscana Sud-Est in seguito alle positività riscontrate la scorsa settimana in due addette alla lavanderia interna immediatamente poste in isolamento domiciliare. Un ulteriore screening nel frattempo ha interessato anche il direttore dell'istituto che nella giornata di sabato 24 ottobre aveva accusato alcune sintomatologie da Covid-19 e che lunedì 26 ottobre si era così sottoposto a tampone al drive-thru di indicatore. In questo caso invece l'esito è risultato di positività ma erano già state attivate tutte le pratiche per l'auto-isolamento domiciliare, scongiurando così preventivamente ogni occasione di incontro con residenti e dipendenti della casa di riposo.